Ma è possibile? Non chiamarmi Ciondello, ma se io mi nutro e tu ti nutri, perché Franz Sinatra? Maceo, non chiamarmi Ciondello, non chiamarmi Ciondello, sai qual è il colmo per un mangio? Maceo, non chiamarmi Ciondello, Maceo, oh hai rotto, Maceo, ma è possibile? Ma se io mi nutro e tu ti nutri, perché Franz Sinatra? Maceo, oh hai rotto, ti tiro un pugno, ma è possibile? Maceo, 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 ma è possibile? Oh hai rotto, è possibile? Sai qual è il colmo per un mangio? Mangio io, ma è possibile? Oh hai rotto, ma è possibile? Oh hai rotto Ha 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 ha! Ha 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 ha!